Pluralismo. Io lo segno così. Perché? Perché il pluralismo è un approccio filosofico che vede la realtà come il prodotto di una pluralità di storie, principi e tradizioni. Esso comprende il riconoscimento della specificità di ognuno, in quanto portatore di proprie esperienze, riferimenti culturali e valori e la consapevolezza della simultanea compresenza di molteplici punti di vista. Presuppone quindi un atteggiamento di apertura e la capacità di accogliere un ampio ventaglio di differenze, garantendo l'interazione armoniosa tra persone e gruppi diversi. Tu come lo segni? Grazie. 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 Grazie.